Sì, abbiamo giocato una pessima partita, questa è la realtà, capita, va bene giocarla al primo settembre, quanto avevamo giocato piacevolmente ieri, quanto oggi eravamo svuotati di energia e siamo stati mangiati dall'energia di Treviglio e perciò automaticamente poi vengono fuori tiri sbagliati, errori tecnici, passaggi, fa parte di un percorso, fa parte di un percorso di crescita, non è assolutamente preoccupante nella logica delle cose, dobbiamo lavorare per evitare che queste cose succedano. Non c'è questo, non c'è questo, c'è da guardare come noi abbiamo giocato e poi capire come mai fossimo così, sempre indietro su ogni cosa di un passo, capire se è un problema fisico, capire se è stato un problema nel momento in cui abbiamo iniziato a sbagliare, di perdere fiducia, perciò automaticamente basta, allora ci siamo un po' depressi, questa cosa qua, queste sono le cose, capire perché in questo momento è importante capire perché succedono determinate cose.